Un nuovo edificio scolastico in via Scardocchi a Campobasso per ospitare il Galanti sorgerà al posto del vecchio liceo scientifico che sarà abbattuto. Sarà una struttura antisismica, moderna, norma. Primo lotto 2 milioni e 900 mila euro. Il progetto è stato illustrato in provincia dal sindaco Antonio Battiste e dall'ingegnere dell'ente Giampiero Di Stefano. È il primo lotto su cui abbiamo già avviato le procedure di gara. Contiamo di iniziare i lavori nei primissimi mesi del prossimo anno. Nel corso del 2018 certamente metteremo a disposizione proprio il progetto, quindi il malfatto di cui verrà iniziata la costruzione nei primi mesi. Per il primo lotto utilizzata una parte dei fondi derivanti dalla vendita di immobili quali Prefettura e Caserma dei Carabinieri di Via Mazzini. Il costo complessivo della nuova scuola con il secondo lotto, secondo le stime, è di circa 5 milioni e 700 mila euro. La terza scuola che realizziamo è un sistema di isolamento sismico alla base, è un sistema all'allaguale che consente di allunare gli effetti del terremoto sulle strutture perché praticamente disaccoppia il moto di vibrare il terreno dalla struttura e quindi gli effetti, neanche quelli di secondo grado, vengono percepiti dalla struttura. E la seconda scuola sul Campobasso, la terza per quanto riguarda la provincia di Campobasso, con i stili superiori perché da tempo abbiamo realizzato l'evio romano di Boiano con lo stesso sistema e gli altri stupi di Campobasso con lo stesso sistema. Intanto ci sono altri interventi già decretati per complessivi 3 milioni di euro. Noi abbiamo avuto la fortuna di candidarci a tutti i bandi che sono usciti dal Ministero, 5 già sono stati decretati che dovremo realizzare nel prossimo anno. Tre interventi per quanto riguarda la documenta antincendio che sono uno sull'istituto industriale di Termoli, un altro sull'istituto Boccarne di Termoli e un altro sull'istituto Pilla di Campobasso. Altri due in prospettiva sono la documenta sismico dell'istituto superiore di Boiano, la parte più vecchia dell'edificio, e un altro piccolo intervento di manutenzione straordinaria su una scuola di Termoli in particolare.